Non ha messo in dubbio il fatto che sia attratto fisicamente da te e che esteticamente tu gli piaccia, no? Quando è andata in esterna e tu continua a dire non ti piaccio, non ti piaccio, non ti piaccio... Le allontani. Lui dice ma... Ma questi sono dubbi miei che ti dico, ok? Però guarda i gesti. Cioè, almeno quelli li guardi? Certo che li guardo. Cosa c'entra questo? Io non ho detto che è sbagliato. Però se tu ogni volta mi sento sempre col fucile puntato... Ma se io fossi venuta con te col piede di guerra non ti avrei fatto le sorprese, non ti avrei fatto vedere il mio figlio. Gaia, su dieci esterni. Ma non ero arrabbiata, ero un attimo nei miei pensieri. Purtroppo sono così, quando mi chiudo, questa è la mia faccia, cosa devo fare? Proverò a vivermela con un pochino più di leggerezza, posso impegnarmi a farlo. Esatto, questo è diverso. Posso impegnarmi a farlo. Perché la mia leggerezza, per esempio, con Marika è più leggera perché lei ha più leggerezza, no? Eh. Mentre tu sei un po' più frenata pure tu e mi freni pure a me. Non te ne rendi conto, sì? No. Adesso c'è di questa male. Boh. Perché pensavi... Perché mi spiace passare per quella pesante. No. Grazie a tutti